Ogni volta che suonavano le campane, succedevano fatti inquietanti quel paese. La gente iniziò a morire. Si dice che c'era un demone che poteva essere sconfitto. Di notte, quando la luna si alzava al centro del cielo, ma nessuno sembra esserci riuscito. E il paese, mano a mano, si sfollò di gente.